Uno Quindi ti rifiuti di sceglierne uno Questa indecisione non è assolutamente da te Io ho già il mio poema preferito Uno della mia terra natale Oh No Oh 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 Credo sia invulnerabile alle frecce sigillo Oh Oh Ehi Mimiro Hai mai notato che Thor parla col suo martello? Ah Continua a farlo vero? Già È per Che ne so Incantare l'acciaio o lanciare un incantesimo? No È lui che è un po' strano